La partenza è stata positiva, bella, bellissime sensazioni, uno staff che io conoscevo da parecchio e sapevo che fosse davvero preparato. C'è grande entusiasmo come tutti gli anni, io inizio ad avvicinarmi ai 30 anni, vedo tutti questi ragazzi ogni anno arrivare che mi fanno capire che gli anni stanno passando, ma ci metto sempre lo stesso entusiasmo e la stessa voglia. Come ogni estate hai giurato amore a Pescara, anche quest'anno ci sono state delle trattative importanti, però non ci hai mai pensato, ho detto io sto qui. Ma da quel che so io, forse l'unica richiesta, non so fino a che punto era arrivata, era quella del Monza, ma me l'hanno detto, ma ho passato la mano anche questa volta e sono contento di essere qua. Ripartiamo dall'ultima partita contro il La Verona, che Pescara deve essere quest'anno secondo te Vincenzo? Deve essere un Pescara che, come ho già detto, per il blasone della piazza ovviamente non ci si può nascondere a proclamare campionati tranquilli e anonimi, ma come dicevo prima per costruire un campionato importante ci vuole tanto lavoro e tanta voglia di fare. Il mister è una persona che è preparata, lo staff pure, adesso sta a noi a metterci a disposizione e se vogliamo arrivare a costruire qualcosa di importante dobbiamo darci dentro. Che idee hai avuto da questi primi giorni di allenamento, nel senso con i nuovi arrivati, secondo te che gruppo sta nascendo, Vincenzo? I primi giorni è sempre un po' difficile perché comunque come ogni anno si parte, penso dappertutto, con una rosa che magari non è mai quella definitiva. La cosa bella è che tutti i ragazzi si stanno allenando in maniera veramente impeccabile, con un atteggiamento professionale al 100% e quindi si lavora bene. Adesso i primi giorni si dedicherà un po' più di energia a ritrovare la forma. L'ultimo, Vincenzo, mi riesci a dire nel tuo cuore quale deve essere l'obiettivo per questa stagione? A girarci intorno dai. No, nel mio cuore è chiaro che vorrei migliorare quello che abbiamo sfiorato l'anno scorso, ma lo voglio davvero. Però so che per farlo bisogna lavorare in una certa maniera. Se noi riusciamo come gruppo a creare un qualcosa di vincente come mentalità, ma durante gli allenamenti è più facile avvicinarsi a quello lì. Possiamo fare il titolo, Fiorillo, due punti, sogno l'ha? Io la sogno, ma se non avessimo i sogni sarebbe meglio stare a casa.